Intanto abbiamo recuperato il collegamento con Daniela Salzedo di Lega Ambiente Puglia. Buongiorno Daniela, bentrovata! Buongiorno! Grazie per il tempo che ci dedichi stamattina, un tempo che dedicheremo al bilancio della salute del mare e dei laghi pugliesi in particolare, perché poi sappiamo che l'estate è sempre quella stagione in cui percepiamo il bene dell'acqua come un bene prezioso, come in effetti è, dovrebbe essere durante tutto il resto dell'anno, ma l'estate è ancora di più perché sappiamo che a volte la siccità prolungata poi ci fa alzare le antenne della nostra consapevolezza. Qual è lo stato della salute dei mari e dei laghi pugliesi quindi? Allora, per fortuna abbiamo ottime notizie, nel senso che il 97% delle acque pugliesi sono buone, abbiamo soltanto un punto che risulta inquinato e per il resto insomma la situazione è molto positiva. È una situazione che abbiamo costruito negli anni, che ci costa una fatica quotidiana perché arriva dalle buone pratiche, dai buoni comportamenti di tutti i cittadini, per cui da una parte ovviamente enti e istituzioni sono bravissime a regolamentare questa situazione. Anche i problemi che in passato abbiamo avuto, stiamo cercando faticosamente di uscire dalle procedure di infrazione della comunità, che la comunità europea insomma ci ha notificato, per cui insomma il lavoro è davvero ancora lungo, non è un dato che ci fa stare tranquilli comunque perché bisogna lavorare in maniera quotidiana. Un impegno costante è sempre come dire opportuno quando si tratta di grandi temi come quelli di cui stiamo parlando, tra l'altro a supporto di questi argomenti. In questi giorni in Puglia ha fatto approdo anche la Goletta Verde. Ci racconti cos'è, che cosa fa, qual è la missione della Goletta Verde? Allora, la Goletta Verde è una campagna di lega ambiente che ormai ha 38 anni, quindi è più che collaudata e in buona sostanza focalizza l'attenzione proprio sulla qualità del nostro mare, ma non solo, anche sui servizi che noi troviamo sulle nostre spiagge. La prima cosa è la cartellonistica, la prima cosa che mi viene in mente. Viene preceduta da un'attività di monitoraggio sul territorio fatta dai nostri volontari e quest'anno ha interessato 32 punti, di cui 3 sui laghi e monitoriamo la qualità del nostro mare. Non è soltanto questo, perché poi quando arriva la Goletta, che è la nostra barca storica che gira tutta Italia e che è un viaggio che è partito a fine giugno e finirà nella prima settimana di agosto, porta anche sui territori i temi cari all'Associazione. Nella nostra regione abbiamo parlato di eolico offshore, perché ovviamente l'energia sarà uno dei temi politici portanti del futuro della nostra regione. Abbiamo parlato di biodiversità, la tappa della Goletta è stata a Manfredonia ed è stata una tappa molto intensa, abbiamo toccato tantissimi temi. Il principale è stato, come probabilmente già sapete, quello della nidificazione delle tartarughe, perché quest'anno c'è il record di nidificazioni delle tartarughe. In Puglia siamo già a 71 nidi monitorati, per cui questo è uno degli effetti del cambiamento climatico, perché l'intensificazione della nidificazione delle tartarughe deriva direttamente dall'aumento della temperatura del mare. Da una parte quindi siamo contenti di assistere al miracolo della vita con le varie nidificazioni e il monitoraggio di tutti i nidi. Dall'altro siamo ovviamente molto preoccupati, perché questo significa comunque una variazione importante dei nostri ecosistemi. Siamo assolutamente d'accordo con te, ma proprio per questo siamo molto grati del lavoro che fate costantemente tutto l'anno ormai, da tantissimi anni, come Legambiente, perché ci aiutate a comprendere meglio quello che succede, ecco anche le evoluzioni climatiche che riguardano il nostro paese. Daniela, io ti ringrazio per essere stata con noi stamattina, speriamo di ritrovarci anche in futuro, qualora ci fossero notizie e aggiornamenti, non esitare a scriverci perché ci fa sempre molto piacere valorizzare il vostro prezioso lavoro. Grazie, il lavoro non è fatto soltanto da Legambiente, è fatto da tutti i cittadini quotidianamente, perché le nostre azioni determinano il futuro della nostra religione, quindi ricordiamocelo sempre. Grazie a voi, ci sentiamo presto. Non poteva esserci conclusione migliore, grazie Daniela per l'invito a fare tutti quanti la nostra parte nel nostro piccolo quotidianamente. Buona estate a te Daniela, quindi buona estate nel rispetto dell'ambiente a tutti quanti noi, ora ci fermiamo per qualche istante e poi ritroviamo Leonardo Fania per gli aggiornamenti. A fra poco.